E' un'evento veneto, ma Caposca è riuscita a convincere anche le altre università del Veneto ad unirsi e a farne un evento veneto. Vale la pena perché abbiamo moltiplicato per tre il numero di eventi, sono davvero tantissime occasioni per conoscere in modo divertente, spiritoso e interessante le novità della ricerca scientifica a Venezia e nel Veneto. Avremo veramente tantissimi eventi che coinvolgeranno la popolazione per età diverse, per competenze e interessi diversi. Invito tutti a venire a Caposcari per vedere cosa sappiamo fare. Grazie a tutti.